Fabiol, la gioia del tuo primo gol al San Paolo, però forse avresti preferito i tre punti stasera. Sì, avrei preferito i tre punti con un gol di Uai, per esempio. Una lastima l'impate e non possiamo stare felici. Qual è il problema del Napoli qui al San Paolo? Avete perso tanti punti con le squadre piccole, è un problema di mentalità oppure l'avversario che riesce a ingabbiarvi bene? Sì, è difficile perché tutti stanno in campo difendendo, però abbiamo bisogno di trovare una soluzione, salire con più intensità e non dare nessuna occasione al gruppo contrario. perché è difficile con 0-0, con 0-1, molto più, e abbiamo bisogno di trovare soluzioni, abbiamo bisogno di lavorare. Sono diversi partiti che abbiamo qui in casa, contro equipi, teoricamente, dietro nostri nella clasificazione, e sicuramente troveremo una soluzione per la che non si escapino più punti.